Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui anche se l'orario è un po' infelice e siamo qui come PD Sinistra Media per fare un incontro con la popolazione e sul tema della gestione dei rifiuti. Presento chi c'è qui con me al tavolo che è Vera Berlucci che è anche lei del territorio di Sarri, Carla Carpinello, Paolo Beneghini, Raimondo Donzel e Alessio Ciacci direttamente dal comune di Capano riguarda la gestione dei rifiuti che dopo ci dirà un po' di cose. Quindi stringiamo i tempi, lascio subito la parola a Vera Berlucci. Buon pomeriggio, grazie a tutti per essere qui. Tutto mi sembra sia un appuntamento molto importante perché tutti siamo molto sensibili a questo tema. Io vi rubo soltanto due minuti e vi presento, visto che ho considerato che faccio parte di questa lista, rappresento in particolare il centro democratico perché come spesso ricordo Raimondo siamo riusciti questa volta finalmente a raccontare tutta la sinistra e io dico anche un pezzetto di centro in questa lista delle tempi lì. La mia esperienza politica per le persone a cui questo è un po' interessare l'ho fatta un po' al contrario, mi piace sempre ricordarlo, sono membro del direttivo del mio partito, del direttivo nazionale del mio partito, mi sono occupata per varie opportunità e attualmente sono referente per le autonomie speciali. Sono una delle fantastiche dodici donne, dodici donne vere che compongono questa lista. Ci abbiamo messo tanto cuore e anche tanta competenza e abbiamo creato tutti insieme questo programma composto da questi punti fondamentali secondo noi affinché si possa ripartire, mettere, accendere il motore, io dico, di questa nostra regione e ricominciare finalmente a rendere la produttiva, costruire. Detto questo, non lo so, un'altra cosa importante che mi preme dire, proprio in considerazione del mio incarico che recentemente mi è stato conferito, è questo. Io non so se molti di voi hanno avuto occasione, qualcuno di voi ha avuto occasione di leggere recentemente i giornali. C'è stato un piccolo trafiletto che riportava una notizia, secondo me invece importantissima, la quale è stato dato poco risalto e cioè il fatto che è stato presentato un disegno di legge costituzionale, io lo sono anche segnato da qualche parte, mi serve ricordare il 582, che prevede l'abolizione dell'articolo 116 della Costituzione. L'articolo 116 della Costituzione è quello appunto che prevede le regioni assoluto speciali. Questo disegno di legge costituzionale è stato presentato dalla Lega, e questa notizia dovrebbe quantomeno un pochino ricordarci dove sta seduto il nostro rappresentante regionale, che si era appunto nei banchi della Lega, la Camera, in collaborazione con il BGL. Ora io mi chiedo, sinceramente, considerato che il nostro rappresentante si è sempre detto che è rappresentante dell'autonomia, rappresenta un partito autonomista, quindi chi in effetti ha cuore più di ogni altro, l'autonomia della Lega d'Aosta. Ora io mi chiedo se è così che intendono tutelare la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il nostro statuto e la nostra autonomia, che in questo momento ci consente di tutelare il nostro territorio, le nostre peculiarità e di mantenere ciò che negli anni abbiamo sostanzialmente costruito. Detto questo, io lascio la parola a Carola, vi lascio su questa riflessione e spero che questa cosa possa in qualche modo mettere in moto un meccanismo e cominciamo piano piano a cercare di capire che forse c'è qualcosa che sostanzialmente non funziona. Vi ringrazio e lascio la parola. la parola a Raimondo Codronzel, segretario del TV. Le donne volevano già monopolizzare la storia. Bene, bene, bene. Tanto l'ospite d'onore che abbiamo qui oggi è Alessio Cialci, quindi è a lui che aspetta l'over, diciamo, dell'intervento principale di questa giornata. Mentre è un po' chiarire perché lui è stato invitato qui e nel contesto di una campagna elettorale. Intanto io lo dico con franchezza perché sono abituato, mi conoscete, a essere diretto, non lo conosco personalmente, ma me ne hanno parlato così bene, mi hanno fatto una capa tante, come si dice, i nostri amici di Valle Verposa, Paolo Medeghini, Lorenza Palma, Carola Cartinello e gli altri con i quali abbiamo collaborato che sicuramente mi sono fatto l'idea di un buon amministratore e quindi il motivo per cui lui è qui è innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di esempi di buona amministrazione in una regione che invece dà degli esempi di pessima amministrazione, non nel territorio comunale perché vedo qui anche dei rappresentanti comunali, sto parlando del livello regionale in primis. Quindi noi abbiamo bisogno di esempi di buona amministrazione e degli esempi di buona amministrazione che dimostrino che alcune cose che noi abbiamo in qualche modo portato qui a livello teorico ideale si possono realizzare concretamente, è lo sforzo maggiore che dobbiamo fare in Valle d'Osta per capire ai nostri amministratori che una gestione dei rifiuti migliore non è un'utopia ma è già una prassi concreta in tante realtà e non è che noi abbiamo una particolarità tale che questa prassi non la possiamo adattandola al nostro contesto regionale riuscire a mettere in bravo. Quindi queste le ragioni fondamentali. L'altro elemento fondamentale è che la questione ambientale, la questione della corretta gestione dei rifiuti ha trascinato una riflessione che è un po' andata al di là dei confini di quelli che erano gli obiettivi di una battaglia veterendaria specifica ma ci sta facendo capire meglio quanto sia importante immaginare una nuova forma di sviluppo per la nostra regione, cioè uno sviluppo in cui l'ambiente non sia più concepito come in questi anni abbiamo vissuto come uno statolo al fare questi ambientalisti che si mettono sempre di traverso nelle battaglie ma come invece oggi l'ambiente diventi la prospettiva di sviluppo per una regione che si è trovata davvero su un piccolo centro, su un binario mondo, 800 posti di lavoro persi nell'industria in Valle d'Aosta, oltre 400 nelle edilizie, il licenziamento di massa degli operai dei cantieri forestali, cioè una situazione disastrosa dal punto di vista lavorativo in una regione che ha trasferato la piena occupazione su cinque anni fa, avevamo la disoccupazione al 4%, oggi la disoccupazione giovanile è a 22%, certamente è deciso la crisi internazionale, i tagli del governo Berlusconi, i tagli di Monti eccetera, però a Trento la disoccupazione giovanile è a 12% e a Pozzano a 9%, siccome eravamo allineati con loro solo fino a 4 anni fa, qui c'è stata una pessima gestione della crisi che veramente ha portato a deragliare la nostra regione. Noi per ripartire vogliamo ripartire con una nuova media di sviluppo in cui l'agricoltura e il turismo lavorano di più insieme, in sinergia e si crei, se vogliamo, il nostro sogno, questo assessorato all'ambiente agricoltura e il turismo che riesca a far vivere insieme queste realtà, a conciliarle e a far partire nuove idee di sviluppo. Quelle abbiamo anche nel campo dell'edilizio, magari se ci sarà tempo dopo qualche spunto che lo offrirà anche Paolo che sta facendo delle grosse riflessioni su ipotesi completamente sbagliate di nuove grandi opere quali il telescaldamento dell'Aosta e altre soluzioni veramente strampalate per la nostra realtà. Quindi benvenuto, un caloroso benvenuto ad esserciarci e davvero speriamo che sulla base delle esperienze che voi avete maturato riusciamo anche noi a formare, a creare degli amministratori che sappiano dare veramente un nuovo indirizzo, una svolta alla Valle d'Aosta. Questa è l'idea che noi vogliamo portare avanti e una volta tanto non è un'idea così di minoranza, di nicchia, perché è un'idea che fa parte di un progetto di governo credibile che noi abbiamo messo in piedi con Ante e UBP. Quindi ci presentiamo non per fare l'opposizione, come succedeva a Space, ci presentiamo non per dire noi abbiamo delle idee che sono di pochi, noi ci presentiamo per governare la Valle d'Aosta in modo diverso, migliore, ci sono tante altre questioni che non è questa la serata per affrontare, le abbiamo affrontate in altre situazioni, tutto il problema del clientelismo, della logica davvero antimeritografica di questa regione, ma questa sera ci fissiamo su questo elemento che però vorrei riportare davvero cardine nella nostra idea di rimettere in modo una Valle d'Aosta diversa, a partire anche dall'ambiente non più come un ostacolo dello sviluppo, ma come l'elemento, la chiave con cui noi immaginiamo di far crescere e sviluppare un'altra Valle d'Aosta. Sì, lascio subito la parola al nostro ospite Alessio Ciacci, ma prima vi dico due parole perché Paolo, Carlo e io abbiamo fortemente voluto questo incontro in quanto, parlo per me ma credo anche per loro, la mia ragione per cui sono candidati in questa lista è proprio avere una corretta gestione dei rifiuti. Noi andiamo qui direttamente dall'esperienza del referendum che si è tenuto il 18 novembre, i cittadini di Valle d'Aosta hanno scelto di non far costruire il piro classificatore ma di andare verso i trattamenti a freddo, peccato che la regione Valle d'Aosta, l'attuale maggioranza non ci senta tanto da questo orecchio perché la relazione che è stata portata dalla Commissione Speciale su rifiuti di cui faceva parte anche Raimondo Donzel non è stata accettata e perché il Consiglio regionale invece ha approvato una delibera con la quale ha deciso sostanzialmente, solo la maggioranza, certo ovviamente PD, Sinistra Media e Alve non hanno votato a favore di questa delibera, la maggioranza ha deciso di voler perdere ulteriori altri sei mesi per approfondire lo studio sulla gestione dei rifiuti, quando noi il piano dei rifiuti grazie all'esperienza dei capanni di Alessio Ciacci, grazie all'esperienza di altre persone che hanno collaborato con noi, gliel'abbiamo già portate. L'altro motivo per cui sono qui è che oltre a non aver ottenuto nulla dal punto di vista gestionale e quello che noi vorremmo fare, vedrà benissimo, ce lo spiegherà bene Alessio Ciacci, è che anche dal punto di vista legale e giudiziario ho capito perfettamente qual è la posizione della regione. Prima del referendum ci sono state due cause, una al TAR e una al Tribunale della Valle d'Aosta con cui sostanzialmente si chiedeva di non far svolgere il referendum e la regione lì neanche si è costituita in giudizio per difendere invece il diritto dei cittadini ad esprimersi. Quasi subito dopo il referendum c'è stato un ricorso da parte del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale dove la regione si è costituita con un atto che non dice praticamente nulla e c'è stato un ricorso al TAR che è stato discusso il 16 di maggio e che abbiamo vinto. In questo ricorso le società che avevano avuto la giudicazione provvisoria della gara d'appalto chiedevano un risarcimento danni da 22 milioni di euro alla regione perché chiedevano che venisse revocato l'annullamento della gara d'appalto e da questo punto di vista la regione assolutamente si è difesa bene nel merito. Peccato che via pregiudiziale queste società chiedevano che il TAR reviasse gli atti alla Corte Costituzionale in quanto ritengono che la norma sia incostituzionale, sia illegittima e la regione si è ben guardata da difendere l'agittimità costituzionale della norma. Allora a questo punto noi non parliamo più di trattamento a freddo, di trattamento a caldo, di biogassificatore o di fabbrica dei materiali. Quello che doveva difendere la regione è l'autonomia valdostana, è la democrazia dei cittadini, il referendum è il punto più alto di democrazia, c'è i cittadini che si esprimono e che fanno una legge. Il referendum è un propositivo in Italia, c'era solo la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano e la regione Valle d'Aosta pensa bene di non difendere la legittimità costituzionale della propria legge e questo mi fa pensare che non abbia la minima intenzione di dare attuazione a quello che i cittadini valdostani hanno deciso il 18 novembre. Ora lascio la parola ad Alessio Ciacci leggendomi un piccolo estratto di questo libro, Verso Spreco Zero, la gestione valdostana dei rifiuti, che è nato da un convegno che si è tenuto qui in Valle d'Aosta a gennaio a cui Alessio Ciacci e altri esperti hanno partecipato e nel quale ci hanno raccontato quella che dovrebbe essere la nuova gestione dei rifiuti valdostana. Alessio Ciacci scrive che amministra una comunità dovrebbe pensare con la massima partecipazione e coinvolgimento popolare a costruire una società riguarda il futuro, che costruisce speranza e pensa a migliorare il futuro per i prossimi figli. La politica non dovrebbe essere gestione del potere o amministrazione dell'esistente, ma la costruzione di nuove frontiere che valorizzino le potenzialità sociali di una comunità. Laddove la politica non ci è riuscita, siete riusciti a coinvolgere la cittadinanza e a evitare il peggio. Adesso arriva la parte più bella e costruttiva, è responsabilità delle istituzioni portare pagina e cogliere quanto successo come un'opportunità che ha fatto crescere tutta la comunità.